Ciao a tutti Sono sempre John Che continua a giocare di nuovo ad Amnesia E... 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 Vabbè Continuiamo da dove avevo lasciato l'altra volta Mi sembra che eravamo tipo Sulla cima di una scala rotta Una cosa del genere La nostra solita schermata di caricamento Fottutamente inquietante ma non importa Sì, la scala rotta è quella qua Ah già, c'era la stanza rossa Che avevo paura, non ci volevo andare Volevo andare da questa parte A vedere cosa c'era Andiamoci adesso Ma... perché? Perché è una picchiata? Ma... che sono sono questi racconti Così... Così... Una parola per descriverli Ecco già Una nota Ma... Vabbò Non c'è nulla qua Niente di niente La mia amica lanterna E sarà il mio fango Finché non troverò di nuovo scopa Un'altra nota Ma... Oddio la mia sanità mentale sta... Mi sta abbassando perché ero al buio No, adesso sto bene Nulla Cos'era quel rumore? Non c'è nulla qua Non c'è nulla qua Sempre Daniel Mi interessa Beh o no, ho letto In verità Ecco E' nebbia Non c'è la... Eccola Ok Ah Perché? Perché? Vabbè No No, chiudi 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 Ok 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 Possiamo uscire Con calma eh Con calma Non c'è nulla Un cazzo Bene Perfetto Meglio Meglio Niente Che altro Ho scritto una nota Cos'è? Questo gioco è maledetto perché ti fa... Dei pop up Tipo Beh A caso E Salti Poi andiamo di qua Sono tornato indietro Ma che Un leggero mal di testa Ecco Non è di qua Cos'è sto rumore? Cos'è? Cos'è? Che non c'è nulla fuori Sangue Perfetto Rassicurante Devo dire Perfetto Perché è stato rumore di tolto Dall'OSP Non ho idea Vabbò Scusa se l'avete sentito Comunque Vato rumore Il computer Un'altra Un altro flashback Dove essere rumori tutti Preregistrati Un'altra Questa è tranquilla La porta è sprangata C'è una nota Cos'è? Perché? C'è? Ah, bene Sono adiettato Daniel C'è? Devo andare verso qualcosa, vero? Tanto che il mouse si muove da solo Che cavolo è? C'è? 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 Mmh Sì, devo uscire Olio Non posso suonare il piano? Che tristezza Ah, sono rimasto chiuso dentro, perfetto Altro acciorino, acciorino E olio Un sacco di olio Però non lo usiamo adesso La lanterna è a posto per ora Ah, giusto, qua devo andare Non può essere rotta con le ma... Cos'era? C'erano dei passi, ho sentito Quelli erano sicuramente dei passi Ah, si è rotta? Cos'è? Cos'è? Cos'è che devo fare? Ah, cos'era? Meccanismo segreto Va bene, attivare quello Si è riuscito a scendere Le accendiamo Una nota Come faccio a prenderla? Faccio a prendere qua la nota I soliti passi Che ti fanno Nooo Nooo Ah, io ho sti cosi Oh, ha funzionato La nota Scusate Scusate Beh, che mi ha fatto C'è riuscito Buono Ma vorrei sapere Perché E che cosa devo fare Sì Ora è posto Ah Devo attivarne un'altra Però quale Allora forse Ho capito cos'è No allora che serve Ecco già mi sono bloccato Il primo Prima cosa C'è solo un altro da tirare Ah eccolo qua Non si attia ancora Ah qua c'è un altro Allora L'ho fatta Sì Chiave della cantina Ho una paura Pottuta Pottuta Interessa Cantina Oh mio ho paura da aprire Perché se c'è dentro un mostro Mamma mia Non c'è nulla Non c'è nulla Per fortuna Mi aspetto Mi aspetto di tutto Da questo gioco Adesso la porta è aperta Posso andare alla cantina Qui devo tornare indietro Allora questa No Dovevo tornare indietro Indietro Cos'è? Oh Oh l'ho visto L'ho visto Oh no Oh no 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 dovevo andare No 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 Oddio cos'è che devo fare L'ho visto L'ho visto C'è un mostro lì Ma come faccio a uscire? Ah è vero No ma lì c'è una frana Cazzo Ah Il mio cuore Oddio oddio L'ho visto andare di qua Per uscire O andare di qua Perciò Ora corro Quello lì mi fa fuori Ah Ho paura Dove è Dove è andato? Ah 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 Vabbè Mappa C'è una mappa Qualcosa Devo capire dove devo andare Non c'è nulla qua Ah 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 E' quella la porta Vattene via Via Corri 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 Sì 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 Oddio Oddio cos'è Ah Che schifo Non c'era prima Quella roba lì Vediamo subito Se questa è la cantina Vediamoci il dubbio Ma no Questa si può già aprire Andiamo Cos'è Una specie di tessuto organico La testa sbatte La testa sbatte E le mani tremano Eh Non sono molto bene Mentalmente Oh Oh No 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 Dove sono arrivato A proposito C'è quel portone Cos'era Ah Ancora sta roba qua Posso spopolare Solt E basta Corri 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 Non siamo andati di qua Cantina Laboratorio Eh Direi laboratorio Mamma mia Cos'è Sbaglio Sempre tasto Per attivare Gli acciariri Ho la testa Che sbatte E le mani Che tremano Ancora Io sto messo Molto peggio Ah Cos'è Io non voglio Nessun mostro qua No Nessuno Ah Perché è rosso Dessera la colonna Una nota Però Ho paura Che se la prendo Si attiva lo script E arrivo al mostro Non so se c'è un posto Per nascondersi Non so se c'è un posto 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 Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace C'è anche un flashback Ma non mi piace comunque Trema tutto Cos'è? Credo che io sono uno di quegli antenati di Sir Daniel Qual è? Ok, nulla Perfetto, un acciarino Mi sto messo mentalmente, un leggero mal di testa Va bene, è accettabile Ma io me ne vado Io scappo Ah no, devo esplorare anche l'altra parte, è vero Ah no, qua non posso andare Ah, ok, va a fa' un bagno Random script Altro olio, una buona notizia Ragazzi, mi manca il scopo, non riesco a trovarla No, no, via, scappa, scappa, scappa Via, via, via Qual è? Ok Mamma mia, mamma mia, mamma mia Però con queste eccitazioni Ok, la prossima tappa è andare Alla cantina Lì siamo andati Non mi ricordo Vabbè, io salvo qua Allo stesso punto vi ho saluto l'altra volta Anzi no, salvo qui al centro Così mi ricordo che è stato avanti Vi saluto Il nostro John che si è preso un attacco di cuore prima Ora sembra stia meglio Alla prossima Ciao